La Libro Università in Lingua e Comunicazione di Iul nasce nel 1968 come istituto universitario in lingue moderne. La vocazione per le lingue resiste tutt'oggi, che l'università sia evoluta in un'università che si propone come polo di eccellenza a livello europeo, quindi non solo a livello italiano, nello studio dei fenomeni che ricadono nel vasto universo della comunicazione, per cui qual è la missione? Quella di formare dei professionisti che siano in grado, attraverso una conoscenza specifica e approfondita delle lingue e della comunicazione di impresa, di interfacciarsi con il mercato del lavoro non solo a livello italiano ma a livello europeo. Cinque corsi di lavoro eternali indirizzati ai diversi ambiti della comunicazione e delle lingue. Il corso di lavoro in comunicazione e gestione dei mercati dell'arte e della cultura, di interpretare arte e comunicazione, di comunicazione in media e pubblicità, il corso di lavoro in relazioni pubbliche e comunicazione d'impresa ed infine il corso di lavoro in turismo, cultura e territorio. Uno dei vanti della nostra università è il campus universitario che si articola su cinque edifici che sono tutti racchiuse all'interno della stessa zona, all'interno del quale è possibile trovare tutti i servizi e le strutture che sono necessarie per una vita universitaria completa, una vita universitaria di livello, per cui biblioteca con connessione wireless, servizio di prestito PC, servizio di prestito libri, aule per la visione del montaggio di audiovisivi, laboratori interattivi di lingua. Inoltre all'interno di queste strutture è possibile direttamente avere dei servizi di ristorazione per completare la vita universitaria anche nella sua componente sociale e in più per gli studenti che vengono da fuori la provincia di Milano è possibile alloggiare direttamente all'interno del residence universitario, non solo un polo però strettamente legato alla vita accademica. L'interfaccia del mondo Yulm è naturalmente il mondo del lavoro, per cui sono realizzate alcune iniziative che permettono all'inserimento diretto dei laureati all'interno del mondo del lavoro, naturalmente attraverso il servizio di placement, ovvero un servizio offerto all'università Yulm che collega direttamente i laureati in comunicazione con le aziende che operano nel settore della comunicazione e delle lingue. Allo stesso modo in questa direzione spingono le iniziative che portano le aziende all'interno dell'università. Naturalmente essendo un'università che si interfaccia con il mondo del lavoro a livello europeo è proposta agli studenti la possibilità di effettuare durante il periodo di curriculum universitario uno studio all'estero attraverso il programma Erasmus in una delle università convenzionate, oppure non solo in riferimento al contesto europeo ma al contesto mondiale in America Latina, in Australia e negli Stati Uniti attraverso il programma Overseas, per cui è possibile sostenere gli insegnamenti del corso di laurea anche in un contesto, in un respiro diverso, conoscere direttamente, naturalmente per un lavorato in lingua importante, le culture di quelle lingue che sono studiate sono espressione. Per chiunque voglia sapere qualcosa di più sull'università Yulm rimane a disposizione il nostro sito www.yulm.it e per chi voglia contattarci direttamente può farlo in due modi attraverso la posta elettronica yulm.orienta-yulm.it oppure attraverso il numero verde 800-363-363 al quale potete trovare tutte le informazioni e direttamente fissare un colloquio con delle persone che sono preposte all'orientamento e accompagnano i ragazzi in una scelta comunque difficile, ma che per quanto è difficile è anche stimolante, perché naturalmente aprendono le prospettive dei nuovi mondi e rappresentano una sfida personale da vincere. Vi ringrazio ancora e saluto tutti.